Il virus è entrato nel carcere di Bari fino al 31 dicembre, covid free, nei primi giorni del nuovo anno. L'ultimo report parla di 83 positivi, 70 detenuti e 13 agenti di polizia penitenziaria. Nessun ricoverato, grazie all'alta copertura vaccinale, i contagiati sono quasi tutti asintomatici. La situazione, insomma, sembra sotto controllo, ma l'elevata velocità di diffusione del virus e le condizioni di promiscuità tipiche delle strutture carcerarie, qui a Bari i detenuti sono attualmente circa 400, consigliano la massima attenzione. La situazione si può gestire solo con screening di massa per vedere effettivamente qual è allo stato la situazione del virus all'interno del carcere. Perché ci possono essere tanti poliziotti che entrano ed escono che possono essere positivi al virus. Quindi chiediamo screening di massa per tutti per verificare la situazione. E nel contempo il problema grosso è la carenza di posti. Tant'è vero che i detenuti vengono isolati nelle stesse sezioni dove sono ospitati proprio per mancanza di posti. La scoperta del focolaio non ha portato per il momento alla sospensione dei colloqui con familiari e avvocati che proseguono, ma in modalità videochiamata ovviamente, anche per i detenuti in isolamento. Piero Ancona, Sky TG24, Bari. Fino alla fine dell'anno non c'erano positivi nel carcere di Bari. Poi l'ultimo report del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 10 gennaio, ne contava una decina. Nel giro di pochi giorni però il focolaio è esploso. Al momento, ma è un dato in continua evoluzione, uno su sei dei 426 detenuti è il Covid, 71 uno dei quali è stato ricoverato e 14 agenti della Polizia Penitenziaria. Sono isolati in aree apposite delle stesse sezioni, una situazione per cui il sindacato degli agenti, il Sappe, esprime preoccupazione. Al momento la situazione è sotto controllo. Sì, in questo momento a Bari la situazione è sotto controllo, però chiediamo che vengano fatti immediatamente screening a tappeto, proprio per verificare se ci sono altri asintomatici che non conosciamo, che potrebbero portare il virus all'interno e all'esterno del carcere. La richiesta è che vengano bloccati gli ingressi di chi ha appena residue definitive di pochi mesi. Chiediamo lo stop agli ingressi, perché stiamo notando che stanno portando in carcere anche gente con due o tre mesi da fare definitive. E questo è molto grave, perché non ci sono spazi. Noi siamo costretti a isolare i detenuti nelle stesse sezioni, proprio per mancanza di spazi. E addirittura si arriva che si aprono dei luoghi, degli piccoli spazi dove mettere questi detenuti, che sono da un punto di vista igienico-sanitario completamente faciscenti. Al momento sono 71 detenuti che sono positivi e più una quindicina di poliziotti. La situazione è tutto sommato e tranquilla. Situazione sotto controllo nel carcere di Bari, dopo la notizia dello scoppio di un focolaio tra le mura del Masone di Viale Giovanni XXIII. I contagi, a quanto denunciano i sindacati, si sarebbero diffusi in una decina di giorni. Fino a fine gennaio, infatti, il penitenziario di Bari era covid free. Anche l'ultimo report del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria riportava a Bari zero contagi. Tre detenuti e cinque poliziotti risultati positivi, mentre il report del 10 gennaio riportava a 20 detenuti e 17 poliziotti positivi. Gli attuali contagiati sono quasi tutti asintomatici, solo alcuni hanno lievi sintomi e quasi tutti sono vaccinati. I detenuti gli viene concesso di fare video telefonate con i parenti, però il problema è la mancanza di spazi, poiché i detenuti, benché siano positivi, non vengono isolati in posti adeguati, ma rimangono nelle sezioni detentive, dove ci sono anche i poliziotti che sono costretti, peraltro, a sobbarcarsi anche tutta una serie di situazioni sanitarie, perché c'è anche una grossa carenza di personale parasanitario per poter far fronte all'emergenza. Segretario, vaccini, dispositivi di protezione individuale ci sono all'interno del carcere, sono arrivati? Proprio stamattina mi dicevano che da questo punto di vista non ci sono problemi, sicuramente vorremmo che ci fosse un'accelerazione sui vaccini, sulla terza dose. Noi già da tempo stavamo denunciando questo pericolo e avevamo addirittura chiesto, avevamo allertato il provveditorato e la direzione di Bari, proprio per cercare, con uno screening di massa, di verificare effettivamente qual era la situazione. Purtroppo è tutto precipitato e quindi ci troviamo adesso in questa situazione.